Avrebbero dovuto restituire la casa popolare a Tommaso Guarnieri appena questi fosse uscito di prigione, ma il patto non è stato mantenuto. È questo il motivo alla base della rissa aggravata che si è svolta a Lanciano la notte tra il 26 e il 27 giugno scorsi con protagonisti due rami della stessa famiglia Rom. Sono iniziati con Angelo Guarnieri e i suoi figli gli interrogatori dal GIP di Lanciano Riccardo Audino. Hanno risposto alle domande del giudice e riferisce il legale difensore Vincenzo Menicucci al TG Max fornendo la loro versione dei fatti. Il padre Angelo, 62 anni, ha gli arresti domiciliari come pure i suoi figli Gaetano, 37 e Fabrizio, 33, mentre il nipote Fioravante Di Rocco, 18 anni, è anche l'interrogato all'obbligo di firma. Il genero di Angelo, Sergio Di Rocco, 41 anni, ha gli arresti a Civitavecchia e sarà ascoltato per rogatoria nelle prossime ore. I miei assistiti questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Lanciano, dottor Riccardo Audino, hanno risposto tutti quanti alle domande del GIP, hanno dato la loro versione dei fatti. Quale è stata la versione, purtroppo non posso dirlo, anche perché le indagini sono ancora in corso, gli interrogatori non sono chiusi, perché domani comunque si svolgeranno gli ulteriori interrogatori dei soggetti che hanno preso anche parte alla rissa. Adesso avremo anche modo di riscontrare quella che è la loro versione, anche in parte già riscontrata, ma che avremo modo comunque di meglio vagliare successivamente, anche tenuto conto delle risultanze che saranno acquisite agli atti, anche in particolare della Polizia Scientifica che sta ancora, diciamo così, vagliando i video che sono stati girati da alcuni residenti della zona che hanno ripreso gli esatti accadimenti dei fatti del 26 giugno.